ciao a tutti sono sissi sono qua con cesarino eccolo qua che oggi non è tanto in forma poverino io vi faccio i miei migliori auguri di natale e anche lui anche cesare vi fa gli auguri cesare che c'è che c'è hai sonno patatone guarda che occhi che occhietti che c'hai oh poverino allora faccio gli auguri a tutti quanti il mio collega utente medio poi chi c'è ancora chiara stema marzocca fabio andre randellone spartacus vi sto dicendo un po tutti chi manca ancora simon legion samuel legion non lo so io lo sbaglio sempre questo nome poi chi c'è chi c'è chi c'è non me li sono preparati sto andando a memoria danilo negan dove sei finito negan se ci sei batti un colpo francesca poi chi c'è chi c'è chi c'è chi c'è chi c'è fatemi sapere qua sotto se ho dimenticato qualcuno sto solo dicendo quelle che commentano di più non lo so comunque vi faccio i miei migliori auguri di natale io mi sto preparando per andare da mia nonna a mangiare qui al nord facciamo il pranzo di natale io non ho festeggiato ieri quindi faccio oggi il pranzo e niente ci vediamo comunque prima della fine dell'anno perché ho il solito video di bilancio dell'anno e poi volevo fare anche un altro video sulle serie tv del 2018 se riesco a farlo e ho questa idea però non mi sono ancora messa in ballo e niente vi lascio con una clip di cesare che scarta il suo regalo poverino oggi è un po non riusciamo capire se è un po di chino di mal di pancia un po male alle zampine poverino vecchietto e oggi non è una delle sue giornate migliori comunque gli ho fatto il regalo e vi lascio con la clip di lui che scarta i regali buon natale a tutti un bacione ciao apriamo il regalo di cesare che bello che sei qua vicino al nano guarda qua questo è il tuo regalo amore il regalo di natale hai visto che c'è il cagnolino sempre lo stesso sacchetto riciclato tutti gli anni cosa c'è dentro vuoi vedere cosa c'è dentro biscotti non si alza neanche in piedi tirati su a guardare cosa c'è dentro guarda biscotti questo è il regalo di cesare biscotti tutti quelli di tutti questi tutti questi biscotti ne mangiamo uno gesù bambino è stato generoso è generosissimo vuoi un biscotto se la dieta ma oggi è natale adesso lo mangia giù sotto intero ma farglielo masticare gli spezzettagliano il reggio è finito finito